Eccoci di nuovo insieme, bentornato e in questo video ti faccio vedere come richiedere il primo prelievo qui su TAP, The Advert Platform. È roba veramente semplice da pochi minuti, però ti faccio vedere come procedere. Chiaramente io sono qui in un account di prova perché non mi è permesso condividere il mio account principale, però tu qui nel tuo profilo avrai i tuoi profitti accreditati alla voce account balance. Quando raggiungi almeno 10 euro puoi fare la prima richiesta di prelievo anche se vuoi fare solamente una prova, va bene? Prima di tutto però ti porto qui sotto il financial center alla voce withdrawal center, va bene? Vai qui e qui c'è il link per accedere alla nostra area riservata per mettere il nostro IBAN della banca o della carta prepagata con IBAN e richiedere il prelievo, va bene? Qui c'è il link dove accedere, cashier.theadvertplatform.com, ci clicchi e qui puoi accedere all'area riservata, va bene? Se non hai mai ricevuto l'e-mail per accedere all'area riservata puoi mandare un'e-mail a questo indirizzo cashier.theadvertplatform.com e te la manderanno di nuovo, ok? Solitamente quando fai il primo acquisto di credit pack in automatico ti dovrebbe arrivare un'e-mail ma se nel momento in cui richiedi il prelievo non ti arriva nessun'e-mail e non ti è mai arrivato niente, non sei mai riuscito ad entrare nell'area riservata finanziaria, basta che mandi un'e-mail a questo indirizzo e loro ti mandano l'accesso, va bene? Quindi cosa dobbiamo fare per richiedere il prelievo? Andando qui nel nostro saldo disponibile c'è la voce withdraw, adesso eccola qua, withdraw. Quindi clicchi qui su withdraw che vuol dire preleva e andiamo a selezionare ovviamente GPN come processore di pagamenti, quindi mettiamo GPN, qui tu metti il totale, non so 10 euro per esempio, vedi che ti dice minimo 10 euro, massimo quanto vuoi, va bene? Quindi qui metti 10 euro e per ultimo metti il PIN, va bene? Il PIN è quel numero di 4 cifre che spero che ti ricordi, se non ti ricordi basta che scrivi al supporto e te lo resettano, però se te lo ricordi è meglio chiaramente, lo metti qui il tuo PIN e autorizzi il pagamento, quindi clicchi qui e autorizzi il pagamento. Cosa succede subito dopo? Il tuo prelievo rimane in attesa per 14 giorni, va bene? Questo è un requisito delle banche per via delle leggi ovviamente anti riciclaggio di denaro e quindi per 14 giorni i nostri prelievi rimangono in attesa. In realtà il prelievo è già stato richiesto, nel senso i soldi sono già nostri, però rimangono giustamente congelati per 14 giorni. Quindi appena fai la richiesta di prelievo, i tuoi prelievi esattamente qui, andando su Financial Center, qui sotto Transaction Pending, qui vedrai il tuo prelievo in attesa, va bene? Dopo 14 giorni cosa succede? Che te lo ritrovi, ti ritrovi la tua somma che hai prelevato, te la ritrovi accreditata all'interno dell'area riservata qui, va bene? cashier.theuverplatform.com. E da lì nel prossimo video ti farò vedere come mettere il tuo IBAN della banca e portarli sul tuo conto corrente, va bene? Nel frattempo fai pure la tua richiesta di prelievo, se non hai mai ricevuto l'email per attivare la tua area riservata scrivi un'email al supporto, questa email qui, e nel frattempo i 14 giorni che hai da aspettare, intanto assicurati di poter accedere alla tua area riservata finanziaria, va bene? Da lì nel video successivo ti farò vedere come inserire il codice della tua banca e richiedere il prelievo, va bene? Quindi fai pure la tua prima richiesta, assicurati di poter entrare all'area riservata, se non puoi entrarci scrivi un'email e ti mandano l'accesso subito, e quindi in questi 14 giorni ci prepariamo e nel prossimo video ti faccio vedere come effettuare il prelievo al tuo conto. Ti mando un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video.